E' la settimana che porterà al raduno della Virtus Lanciano. La squadra di Roberto D'Aversa infatti è una di quelle che ha optato per il posticipo dell'inizio del ritiro, non appena avuta notizia dello slittamento della prima giornata di campionato al 5 settembre. Un po' come è successo al Teramo, questo fatto permetterà alla dirigenza, in particolare al DS Luca Leone, di fare qualche colpo in entrata da mettere a disposizione per il ritiro. La squadra si radunerà il 15 luglio al Biondi per poi partire direttamente in direzione Roccaraso, eliminati i giorni previsti in città a Lanciano. Diverse sono ancora le spine di mercato e che riguardano le due estremità del campo. Intanto il ruolo di portiere si complica il rinnovo del prestito del brasiliano Nicolas da parte del Verona e allora Leone sta valutando un piano B che ha le sembianze del 21enne Alessio Cragno, ex Brescia e di proprietà del Cagliari, che troverà il posto da titolare in Sardegna occupato da Marco Storari. Rimanere per fare il secondo o giocare altrove è il nodo che il giovane portiere dovrà sciogliere. La Virtus è alla finestra e il colpo sarebbe ancora più importante vista l'intenzione della società di puntare sugli under 94 e 95 per il minutaggio. Ma i problemi principali riguardano l'attacco, smembrato sia delle punte centrali sia di esterni di sinistra. Abbondano quelli di destra anche con gli arrivi di Di Benedetto e Di Francesco. Potrebbe partire De Silvestro ma servono i centravanti, specie se D'Aversa dovesse optare per il 3-5-2. L'obiettivo numero uno resta il vastese Roberto Inglese, ex Pescara, reduce dalla promozione in A col Carpi ma di proprietà del Chievo. Nelle ultime ore si fa anche il nome di Petagna, specie se il Milan non dovesse perfezionare l'operazione di prestito al Como. In ribasso le quotazioni di Torregrossa per il quale si è fatto avanti prepotentemente il Pescara che col Verona vorrebbe perfezionare una doppia operazione che riporterebbe Zampano in rival adriatico. A centrocampo in caso di rinnovo di Vastola andrebbe colmato il vuoto lasciato da Grossi. Per il reparto difensivo ci siamo, al massimo qualche ritocco. Due intanto le amichevoli fissate con squadre pari grado di B, sempre al Biondi e sempre alle 20.30. Lanciano Latina venerdì 24 luglio, Lanciano Avellino domenica 2 agosto.